Povera Sofì. Sofì Codegoni, la bella influencer ed ex concorrente del Grande Fratello, ha raccontato ultimamente sulle sue storie Instagram del grande dolore che ha provato per la rimozione di un tatuaggio che di solito è per sempre. La ragazza ha detto che sta andando a fare la seconda seduta di laser per togliere il tatuaggio e già inizia a piangere solo al pensiero perché sa il grande dolore che dovrà affrontare, dovrà tenere, pensate, l'anestetico per mezz'ora e fa malissimo. Anche così immaginate senza fa un male incredibile. Brucia e pizzica. Sofì è consapevole che prima di fare un tatuaggio da oggi in poi ci penserà mille volte. Povera Sofì. Di solito i tatuaggi rappresentano un per sempre per le persone ma a volte non piacciono più e sono dolori.